Tesni, terzo gol in campionato, la tua è una presenza offensiva importantissima per la squadra, diciamo anche col mister, tu e Molina siete di fatto attaccanti in più quando l'Udinese avanza. Sì, sicuramente, è una cosa che ci chiede il mister sempre, di chiudere l'azione con il quinto nel lato opposto e proviamo a essere il più possibile presenti in aria. Ci racconti anche il gol, no? Perché è stata non solo una giocata bella dal punto di vista proprio tattico, il tuo taglio, ma anche di qualità. No, infatti, perché prendo la partita il mister ci ha detto a noi quinti di riconoscere gli spazi, entrare dentro al campo, fuori e penso che poi Jerry e Isaac hanno fatto la cosa più difficile, cioè lo scambio sullo stretto e poi mi sono trovato davanti alla porta, quindi ho avuto anche fortuna. Come giocare anche con Isaac, no? Perché si parlava prima anche di suoi assist, oggi ha trovato il secondo gol in campionato. No, Isaac sappiamo che è uno davvero bravo perché è bravo a far salire la squadra, a tenere la palla, a giocare di sponda, quindi ci troviamo benissimo con lui. Tornando alla partita, vi resta un po' di rammarico, più che altro perché il gol è stato subito nel vostro miglior momento e in tante situazioni tu hai anche sfiorato la doppietta, l'Udinese ha creato tante occasioni da gol. Sicuramente c'è rammarico perché abbiamo sprecato tante occasioni e potevamo fare meglio davanti alla porta, essere più concreti, però ci teniamo a questo punto importante. Questa è la risposta che volevate dare dopo la beffa di mercoledì? Sicuramente vogliamo dimostrare che ci siamo, che siamo aggressivi, compatti, magari la vittoria era più importante ma va bene, è una bella risposta.